Sbem, questi sono gli ultimi 3.000 euro che abbiamo vinto, iscritti subito al mio canale di telegram per servire i servizi e va, bam O ultimamente i video che appaiono sulla baccheca, sempre così, ma di cosa sanno? Vinceteci, avete il metodo vincente? Bene, bravissime, tenetevelo per voi, che cazzo ce ne fregano, cioè no? Ma like al video solo per questa intro, forza Allora ragazzi, cosa andiamo a fare oggi? Cosa andiamo a fare oggi? Qui arriva roba, qui sta continuando ad arrivare roba che ho ordinato ovviamente, non è che mi spediscano le cose a caso Quello che avete visto all'inizio non è un bigliettino stampato alla mia stampante di casa, ma è l'ultimo acquisto che ho fatto E mi è arrivato anche sto bigliettino interno, vedi, sincere yours, caring Questa potrebbe essere la prova definitiva, ragazzi, che veramente lavoro nel gruppo caring, cioè non nel gruppo caring, nel senso in un brand appartenente al gruppo caring Tutto il letto ho pagato tu mettessi a fuoco la sted E cosa vi vado a presentare oggi? Allora ragazzi, oggi vi vado a presentare questa scatola Quando vi arriva una scatola del genere, mi raccomando ragazzi, non buttatela mai via Queste non le dovete mai buttare via Ma non per niente, perché queste vi risulteranno utilissime per tantissime cose Non sto scherzando, tutte le volte che la butto via, il giorno dopo devo fare una spedizione, cerco una scatola per imballare chissà cose Sempre così, non le buttate mai via Detto ciò, detto ciò, al suo interno cosa c'è? C'è un po' di carta? No, ma ora arriviamo, eh, non è che è così il video unboxing, se non fa schifo Anzi, non ve l'avevo detto, questo è un unboxing interattivo, perciò decidete voi adesso in 3 secondi millesimi cosa fare Vi è andata male, non è cascato tutto, avete visto? L'ho rovesciata, ma è rimasto praticamente tutto al suo interno E non si capisce ancora cosa c'è Andiamo a vederlo subito Abbiamo questa carta orrenda E sbam, appare qualcosa Cosa cazzo è apparso? Andiamo a vederlo subito Non vi preoccupate, qui è tutto live Anche perché, se non avete capito, indovinate cosa succede Voto! E stavolta ha funzionato, sei recidivo, voti sempre le stesse cose Per la seconda volta ho dovuto rovesciare la scatola, stavolta però è vuota Cioè, è cascato tutto, adesso andiamo ad accattarlo perché c'ho da farvi vedere in qualche modo cosa c'ho Cosa ho comprato Ho volato anche la scatola Pronti perché è bomba È una camicia del brand McQueen, cioè della linea, scusate, McQueen Non è che sarebbe la linea un po' più commerciale del brand Alexander McQueen Con prezzi un po' più affordable Qua vedete, tipo codice a bar, taglia, bla 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 La cruccia, bellissima È tipo in velluto Con il logo McQueen, non lo vedo ora, è il rilievo, è il rilievo Poi il logo e altre informazioni inutili, vabbè Poi c'è anche il retro dell'etichetta che però c'è scritto tutto il codice dello spedizioniere, bla 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 Non ve lo posso far vedere Vado adesso a levare la paper Non so se mettermela adesso oppure, oppure mettervi direttamente la foto su Instagram Così vi motivo anche a seguirmi su Instagram O comunque a venirmi a cercare su Instagram Che imprenditore digitale ragazzi Imprenditore! Ragazzi dai davvero ditemi cosa ne pensate È figa, no? Io penso proprio di sì Attenzione, altra votazione Esattamente, esattamente Anch'io avrei votato quello perché non è il momento per provarsela Cioè non siamo in un camerino Perciò è figa Non vedo l'ora di indossarla Però nella giusta condizione ci metterò quindi una bella fotina E potrete vedere come è fitta e come è bella e come c'è Tanto l'articolo è questo L'avete visto Dislike allora per questa cosa No, l'hai votata te l'iniziativa Ma cosa dislike? Ferma lì Basta, basta Questo video unboxing interattivo termina qua Fammi sapere cosa ne pensi E vabbè Non è proprio il topissimo Cioè hai preso un articolo spaziale Però brutta non è Ecco Pensatela voi in un armadio dove uno ha insomma una rotazione di articoli Questa qua secondo me può fare la sua figura Io perciò vi saluto Vi invito a lasciare un bel like al video Iscrivervi sul mio canale Instagram Iscrivervi sul mio canale YouTube Seguirmi sul mio account Instagram E come è venuto adesso E noi perciò ci vediamo al prossimo video Ultimamente stanno uscendo solo unboxing Ma torneremo, torneremo Perché non ho nemmeno tempo per affrontare tematiche Ho ordinato roba Sicché è la cosa più veloce da fare Tornerò con altre tematiche Affronteremo altre tematiche soon Grazie per il seguimento E per aver visto questo video Bella Bella